Musica Ciao a tutti ragazzi sono sempre io MCObs e bentornati nel mio canale Come avevo scritto su facebook siamo qui con un mega commentare su Battlefield 4 Dove ho deciso praticamente di registrarlo, l'ho registrato l'altro giorno, durava più o meno mezz'ora Quindi farò soltanto un estratto di una ventina di minuti Per cui in questo commentario, in questo video utilizzo solamente sniper mi sembra Anche perché avevo fatto un po' di came però ho deciso di prendere in considerazione soltanto le parti in cui utilizzavo il cecchino E' stata una delle mie migliori partite su Battlefield perché veramente su Battlefield non sono molto bravo Visto che io sono più un tipo da cod che si butta nella mischia e non uno che aspetta che arrivi il nemico Ho fatto 18-25 mi sembra Comunque ragazzi sono proprio una schiappa su questi giochi Anche su CODO quando vedrete i miei primi commentari saranno veramente delle schifezze Sì perché io gioco abbastanza, non gioco tantissimo Non sono un nerdazzo che sta lì tipo 6 ore di seguito a giocare Però gioco quell'oretta e mezza al giorno e mi diverto tantissimo Ecco mi basta quella mezz'ora per divertirmi Comunque questo commentario volevo utilizzarlo un po' per parlarvi di quello che penso della next gen In riguardo alla next gen per PC Perché tutti hanno parlato delle nuove console, di Xbox One, di Playstation 4 e tutte queste cose nuove Della next gen per quanto riguarda le console Ma per quanto riguarda il PC quindi i giochi Perché comunque il PC è sempre in aggiornamento Si possono aggiornare tutte le varie componenti hardware Quindi il computer si può potenziare sempre di più E volevo parlare un po' di giochi Che sono in programmazione Che come posso dire Verranno presentati come effettiva next gen Gioco All of Duty Ghost E' stato presentato come next gen Però secondo me non può rientrare in questa categoria Perché la grafica di sicuro non è una grafica da nuova generazione di videogiochi Perché comunque non è tanto più alta in qualità rispetto a quella di Black Ops 2 Comunque Battlefield 4 già sicuramente può entrare a far parte non completamente Perché comunque la grafica è migliorata abbastanza visibilmente rispetto a Battlefield 3 Come potete vedere adesso Comunque vi metterò di sicuro il link al video di Battlefield 4 Perché per farvi vedere un po' le differenze E adesso era la beta Io Battlefield 4 non l'ho ancora comprato Anzi ne approfitto per dirvi che sto pensando di comprarlo Perché ho visto un po' di siti su internet Che vendono le key, le chiavi di Steam No, di Origin scusate A poco prezzo, a 40€ mi sembra Quindi appena ho un po' di soldi da parte Magari ci faccio un pensierino e lo compro Così posso iniziare a farvi video anche su Battlefield 4 Perché su quello sicuramente so che non lagga Cioè a registrare, non ho problemi Infatti sono riuscito a registrare sulla beta Che non era ancora perfettamente ottimizzata Quindi sicuramente sul gioco originale e completo Riuscirò a registrare molto, molto, molto tranquillamente Sempre per quanto riguarda la next gen Mi sembra di aver letto, di aver visto in giro Che Destiny, il gioco presentato all'A3, al Gamescom e al Gamesweek Mi sembra anche, non so, io non ci sono andato Un gioco della EA Sports mi sembra Che avrà una grafica sicuramente molto rivoluzionaria Che sarà ambientato nel futuro Mi sembra comunque non mi sono informato ancora benissimo Però so che il nome è proprio Destiny E sarà uno tra i migliori giochi È stato annunciato così Ho guardato anche un po' di recensioni Di altri youtuber che l'hanno provato al Gamescom E secondo le loro parole Meritavo veramente tanto Io non l'ho provato Sono ansioso di vedere com'è Perché comunque non sarà uno sparatutto Sarà un gioco di avventura E sono abbastanza curioso di vedere come sarà Comunque ragazzi sappiate che nel 2014 Io comprerò tantissimi giochi Almeno se riuscirò a crescere su YouTube Avrò la partnership Vi assicuro che utilizzerò tutti i recavati Tenuti dalla partnership Per migliorare il canale Per comprare i giochi per il canale O per migliorare il computer Comunque il canale sarà come posso dire Si autofinanzierà grazie alla partnership Comunque forse sono un po' dei pensieri Un po' troppo avanti Perché ragazzi siamo soltanto a 66 iscritti Anzi vi ringrazio veramente tanto Non ho ancora ringraziato nessuno di voi Ma vi ringrazio perché Non lo so Vedere ogni giorno che il canale cresce Che gli iscritti aumentano Mi fa veramente piacere Comunque ragazzi io penso Che questi 5 minuti di parlata Siano abbastati Siano più che sufficienti Per cui io vi invito a lasciare un bel commento Un bel mi piace se il video vi è piaciuto Mi raccomando rimanete sintonizzati sul mio canale Perché ho grandi novità Intanto aspettiamo che aggiornino questo cavolo Di Call of Duty Ghost Perché non vedo l'ora di proporvi Dei bei commentari Per cui io vi do un bacione grosso Noi ci becchiamo nel prossimo video Bella a tutti da MC Ops Ciao Grazie a tutti.